Perché sostenere Melting Pot? Perché una delle poche voci che è rimasta ancora indipendente ed è capace di produrre informazione è creare aggregazione per le tante battaglie che ancora ci aspettano per la difesa dei diritti fondamentali, dei diritti umani, non solo dei migranti ma anche di noi italiani. Occorre fare chiarezza sulle tragedie che si verificano ancora in Africa, in Libia, nei paesi di transito, sui tanti abbandoni in mare e sulla guerra che si combatte ancora i soccorsi umanitari, nel silenzio complice delle istituzioni europee e italiane che sono colluse con le autorità libiche per le attività di respingimento collettivo illegale in acque internazionali e poi anche occorre creare mobilitazione attorno alle persone che arrivano comunque dalla rotta balcanica, adesso si sta criminalizzando anche chi presta solidarietà a queste persone e come si vede alle indagini più recenti a Trieste e poi occorre anche combattere per i diritti fondamentali, dal diritto alla salute al diritto al lavoro in Italia, per le centinaia di migliaia di migranti che si vedono ancora oggi discriminati o comunque posti in una posizione sotto ordinata rispetto ai cittadini italiani. Quindi mi auguro che questa campagna di mobilitazione per Melting Pot possa avere successo e invito tutti a partecipare per mantenere ancora viva questa voce libera e soprattutto impegnata nella difesa dei diritti di tutti.